Sub specializzati si sono immersi oggi nei fondali delle Tegnue di Chioggia per ripulire il sito da retti da pesca e rifiuti. Saranno tre giorni di intenso lavoro per un parco marino che punta al riconoscimento UNESCO. La Nanniero lascia la Drasena Mosella diretta a largo alle Tegnue, parco marino noto come le barriere coralline adriatiche. Un tesoro in fondo al mare di scogliere sommerse a lungo nascosto. I pescatori se ne accorsero perché solo qui le reti rimanevano impigliate in dialetto Ciosotto, Tegnue. Reti che nel corso delle decennie si sono accumulate assieme a rifiuti e plastiche. Si chiama Poseidone, come il dio greco del mare, il progetto che vuole ripulire i fondali del sito. I sub specializzati hanno iniziato le immersioni a 25 metri di profondità, tre giorni di lavoro per il team. La difficoltà è sempre legata a lavorare in immersione a 25 metri in un mare come quello che è l'Adriatico, che non è trasparentissimo ed è caratterizzato da forti correnti. Per cui abbiamo un nucleo di sommozzatori molto ben nutrito che si alternerà a cadenza di 25 minuti a coppia. E una volta in fondo al mare le operazioni si fanno ancora più ardua e si interviene in un sito delicato il sopralluogo svolto dai sommozzatori della Polizia di Stato. Ci sono reti che sono lì veramente da troppo tempo e strapparle, portarle via farebbe un danno ambientale inestimabile. Quindi ci sarà anche un lavoro minuzioso di ritaglio dove possibile per prelevare solo quello che si può prendere senza danneggiare la tenua. È l'operazione più significativa della campagna Poseidone in uno dei luoghi più preziosi della costa Veneta. Iniziato nel 2023 proseguirà fino a dicembre 2025. Ho finanziato tra fondi europei e regione che riguarderà gli anni 2023, 2024 e anche il prossimo anno e che sarà di oltre 4 milioni 700 mila euro. Un tesoro sommerso ricco di colori, vita, biodiversità e le comune come ente gestore ora punta al riconoscimento UNESCO. Abbiamo attivato la procedura per il riconoscimento che diventi patrimonio ovviamente dell'UNESCO, le tenue quindi sarà un valore aggiunto non solo per la città ma anche per il delta del Po perché stiamo collaborando con tante istituzioni.